Avete votato contro anche a questo, ma non ci stupiamo. Sappiamo fin troppo bene che voi preferite soddisfare le banche che speculano sulla pere di chi ha perso il lavoro e non ce la fa pagare il mutuo che i cittadini. E per tutti questi motivi, signor Presidente e onorevoli colleghi, che confermo il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia e l'Alleanza Nazionale a questo provvedimento. La ringrazio. Deputato Piepoli, prego. Colleghi, per favore, se parlate potete abbassare il tono della voce. Grazie. Grazie, Presidente. Prego. A nome del Gruppo per l'Italia Centro Democratico noi confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento. Lo facciamo cercando di avere consapevolmente di un doppio livello che il provvedimento stesso richiama. Il primo è quello delle norme che esso introduce. La gestione è da parte del diritto della crisi dell'impresa, inevitabilmente pone problemi di progressivi aggiustamenti. E questo già a partire dagli anni Settanta, da quanto la recessione ha fatto esplodere all'interno dell'Occidente industrializzato una molteplicità di gravi crisi aziendali. e quindi nell'Unione Europea i diversi ordinamenti si sono attrezzati con strumenti progressivamente affinati. Per cui non ci stupisce anche la precarietà delle scelte e anche il fatto che questi strumenti qui individuati a proposito del concordato debbano poi coordinarsi con il frutto dei lavori della Commissione istituita presso il Ministero di Grazie e Giustizia. E d'altronde noi sappiamo che oggi la crisi paradossalmente può essere l'incubatore perché si esca rinnovati sia sul versante delle regole e quindi dell'ordinamento giuridico sia sul versante dei processi economici. Perché noi dobbiamo battere quella oramai autorevole è riconosciuta apparente incompatibilità tra processi economici e meccanismi di governo dei processi medesimi soprattutto quanto in campo è la crisi dell'impresa. Perché si dice i giudici sanno poco dell'economia e l'economia può sapere poco dei giudici. E allora invece noi siamo qui chiamati a trovare meccanismi che non ci rendano ininfluenti su questi processi. Qui ci troviamo di fronte a norme che certamente hanno introdotto una serie di novità penso in particolare alle diverse dinamiche nel concordato penso in particolare ai nuovi accordi e penso in particolare anche alla strumentazione che oggi ha cercato in questo provvedimento di accompagnare il rinnovamento dell'organizzazione della macchina della giustizia. Ma noi sappiamo che al di là di questo c'è un tema di fondo. Il tema di fondo è che la crisi è vera la crisi dell'impresa ci pone sempre l'interrogativo del nostro rapporto rispetto a una identica connotazione che si chiama tempo. Noi abbiamo sempre più la consapevolezza che non possiamo intervenire tardi allorché la decomposizione dell'organismo produttivo si è già realizzata e quando oi me si tratta di procedere solo a finalità liquidatorie. Ma questo richiede di anticipare sempre più la capacità di intervenire sul primo momento della crisi dell'impresa e noi speriamo che soprattutto da questa Commissione si introducano elementi per nuovi meccanismi di governo delle dimensioni prodromiche della crisi medesima. ma vorrei anche dire che non è vero quello che qui è stato detto che cioè il provvedimento esce così come entrato perché in Commissione noi abbiamo fatto un lavoro parlo soprattutto della Commissione Giustizia e soprattutto parlo e qui lo diciamo perché non sia semplicemente una velletaria speranza ma perché sia una certezza abbiamo fatto un buon lavoro di riscontro con coloro che in prima persona sono sulla frontiera della gestione della crisi parlo cioè della magistratura e abbiamo soprattutto riscontrato un singolare affidamento della magistratura rispetto alla nostra capacità di legislatori e dunque la necessità di fare entrambi un salto culturale e qui vorrei sottolineare che questa è la vera grande sfida un salto culturale del legislatore che non si accontenta semplicemente di rinviare a domande grezze e a moltiplicare le domande abbassando la sua capacità tecnica ma nello stesso tempo cerca di rendersi conto della complessità e di organizzare questi medesimi strumenti e qui da questo punto di vista io credo che questa apertura di credito segna anche una fase nuova di dialogo tra potere legislativo e chi deve interpretare qui richiamo perché la facciamo nostra sino in fondo l'insieme delle riflessioni che il nuovo avvocato generale presso la Corte di Cassazione l'altro giorno sul sole 24 ore ha fatto proprio su questa sfida culturale di una nuova capacità culturale del magistrato di rendersi conto della complessità quando interviene sui processi economici ma di questa nuova sfida culturale anche per il legislatore perché non abbassi gli orizzonti della sua capacità aggirandosi nell'inconcludenza delle prese di principio posizioni di principio come me anche in questa occasione ci è capitato di fare dunque abbiamo di fronte a noi una prospettiva di lavoro che non dobbiamo lasciare cadere ma che dobbiamo nella solidarietà costruire perché la crisi dell'impresa è soprattutto alla fine della fiera una crisi anche del sistema istituzionale e politico perché qui si tratta di non lasciare cadere le risorse che sono risorse organizzative, risorse umane sono risorse economiche e soprattutto non possono essere lasciate sole a se stesse assolutamente in nome di una politichetta domestica grazie ringrazio il deputato Piepoli e ora chiede di intervenire il deputato Molteni prego, ne ha facoltà grazie presidente presidente, annuncio sin da subito il voto contrario da parte del gruppo della Lega su questo decreto che come è stato più volte ribadito nel corso del dibattito è un decreto estremamente confuso è un decreto estremamente caotico è un decreto pasticciato che rappresenta evidentemente lo stato confusionale in cui versa questo governo il governo e la maggioranza è un decreto che parla anche di fallimento e mi sembra che possa rappresentare perfettamente la cartina al tornasole del fallimento di questo governo del fallimento di questo governo sulle politiche di sviluppo e di rilancio del sistema economico del nostro Paese e sulle politiche di gestione del sistema giudiziario del nostro Paese io credo che con questo decreto che questo decreto sia l'ennesima occasione persa perché con questo decreto non si risolve non si migliora e non si affronta soprattutto in maniera organica e sistematica il problema, un problema enorme un problema evidente che è il problema della profonda ed evidente crisi economica che affronta il nostro Paese di numerose aziende